Ciao ragazzi e ciao ragazzi, allora altri nuovi grattevinci. Ho scoperto questo grattevinci, cuccioli d'oro, è un nuovo grattevinci, l'ho visto alle macchinette, costa 3 euro e volevo provare a vedere come funziona, in poche parole. Vediamo se con questo porta fortuna. Poi ho preso altri due, che è uno e sette e mezzo e l'altro è monettine fortunate, ovviamente un euro, un euro, in totale 5 euro. E dato che non volevo spendere altri 3 euro, praticamente ho speso un euro di grattevinci, perché già con questo è già buono. Prima di iniziare a vedere se abbiamo vinto, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivando la campanellina così non vi perdete i video che escono sul canale. Lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video, un commentino qua sotto e se volete vi lascio il mio Instagram sia qui che sotto in tutti i video che vedete, che praticamente quelli che escono. Detto questo, iniziamo a grattare e vediamo se vinciamo qualcosa. Per cui, vediamo. Proviamo a vedere con i primi due, che sono questi, e l'altro lo lasciamo per ultimo. Per cui, iniziamo a vedere il premio, se è di più e possiamo vincere. Allora, il premio è 100 euro. E vediamo se abbiamo culo. Dobbiamo fare 100, per cui. 5, iniziamo bene. 20. Scusate se, ma sono un po' scomoda. 5, non arriveremo mai a 100. 20. Perché queste qua non lo so. E poi abbiamo un 10. Allora, questi sono i numeri. 50, 60 e 70. Praticamente non abbiamo vinto niente. Ma io lo sapevo perché già con 100 euro sarà un po' difficile. Niente, questo è perdente. Iniziamo bene. Proviamo il 7,5. Allora, vediamo il premio. 1 euro. Qua è più facile perché è 1 euro. Allora, il banco, vediamo. Il banco è re e 3. Vuol dire 3,5. 3,5. Vediamo. Credo di sì. Iniziamo da qua, che è 2. Poi, 2,5. E, per finire, 2. Per cui abbiamo fatto 4,5. Dobbiamo superare il banco, per cui l'abbiamo superato, perché 3,5 abbiamo vinto 1 euro. È meglio vincere di più, però, vabbè, accontentiamoci lo stesso. Comunque, questo è vincente. Proviamo a vedere questo. Allora, in poche parole, c'è scritto che dobbiamo partire alla partenza. Per cui, grattiamo la partenza. Dobbiamo completare la fila e arrivare al premio. La partenza è... Ah, ok. Dobbiamo seguire le frecce, in poche parole. Per cui, vuol dire, sotto, vuol dire che dobbiamo andare in giù. Poi, c'è scritto destra. Andiamo a destra. Qua, c'è scritto di andare ancora a destra. Ancora a destra. Di nuovo a destra. Qui dice di andare sotto. Andiamo sotto. E destra. Però a destra non c'è niente, per cui, da quello che ho capito, che non abbiamo vinto. Perché, se la freccia diceva di andare sotto, in poche parole, vincevamo il premio che è qua. Oppure, cioè, oppure andando di là. Ma, da quello che ho letto, gratta la casella indicata della scritta partenza. E poi, gratta le caselle successive indicate delle frecce, di volta in volta scoperte. Se la frequenza delle frecce conduce alla partenza ad un premio, vinci quel premio. Poi, gratta tutte le altre caselle. Se trovi una o più volte il simbolo celato dal simbolo bonus, vince una o più volte il premio adesso corrispondente. Per cui, non abbiamo vinto. In poche parole. Vediamo il simbolo, che era 5 euro. Che non era male. Se andavamo qua, vincevo 20 euro. Qui invece 5. Qui 200. E qua 100. Per cui, in tutto questo. Non abbiamo vinto niente. I numeri erano un po' altini. Tranne i 5 euro e i 20 euro che potevamo vincere. E invece... Io ho capito che il gioco è così, per cui alla fine non abbiamo vinto niente. Questo è perdente. Ok, allora, monettini fortunate è perdente, per cui abbiamo perso. Invece, 7 e mezzo abbiamo vinto un euro. Mamma mia! Troppo! E l'altro che è quello nuovo, cuccioli d'oro. Non abbiamo vinto niente. Allora, all'inizio, quando sono arrivata fino a qua, ero felice perché ho detto che bello, inizio a vincere qualcosina. Poi, quando c'era scritto a destra, che a destra non c'è niente, ci sono un po' rimasta. Però, vabbè, è un gioco. Io mi diverto lo stesso, anche se non vinco niente. Per cui, ho visto che questo gioco è bellissimo, che è carino perché fai, diciamo, segui le frecce. La prossima volta lo compro ancora, perché è molto carino. Costa 3 euro, non costa neanche tanto. E vediamo se la prossima volta riesco a vincere qualcosa. Però, è bellissimo. Non lo so, fatemi sapere anche voi se vi piace questo grattevinci. A me è piaciuto. Ok, niente. Andrò a ritirare un euro. Tanto poi gli altri grattevinci li vedete nell'altro video che ho già comprato altri grattevinci. Ma li vedete nell'altro video. Per cui, non vi spoilerò niente di quale grattevinci ho preso. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che vi siete divertiti. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. E se volete seguirmi su Instagram. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!